Allora comunicazione a tutti i pescatori siciliani e d'Italia, ci stiamo muovendo e scendendo tutte le varie marinerie per capire come manifestare, quando manifestare e che tipo di manifestazione fare. Una manifestazione di sciopero contro il governo regionale, il governo nazionale che dice che erano pronti, ma di fatto di pronto non vediamo niente, anzi vediamo tutto più aggravato. La mia intenzione, la nostra intenzione, l'intenzione delle imprese di pesca, degli armatori e dei pescatori, visto che stiamo vedendo che tutto sta stringendo e che praticamente non esiste un piano di sviluppo per il nostro settore pesca, la nostra intenzione è quella di unirci alle proteste degli agricoltori, degli allevatori, pare che si uniranno a queste proteste anche di aziende di trasporti e camionisti e addirittura abbiamo avuto segnali di avvicinamento anche da parte di alcune imprese turistiche. Quindi in poche parole c'è malcontento e si intende manifestare, scioperare contro questo governo perché praticamente non esistono piani di sviluppo.